Sì, insisti. Grazie. 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 Ti giuro, arriva il giocato. Grazie. Grazie. Hai tirato? Sì, sì. Ah, scusate. No. No, no problem. Io penso sempre tirai sui dati. Eto, come vanno in tutto qui nel tempo? Scusate. Grazie. 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 Buono. 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 Grazie. 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 Grazie mille. Devo fare con W4? Si. Che sorpresa. Allora. Diogoverno. Ode x2. Odex2. 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 Grazie. 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 No, non puoi dare il giro dopo? Sono sul bar. Anche se entro non lo puoi dare poi non le posso capire. Su quel punteggio? No, no, no. Non so, su quel punteggio. Non è successo. Secondo me... Può essere? Che stia un dettaglio di punteggio? Sono qui, c'è il chilo, su un uomo aperto. Se mi mangi, l'80% è doppio, perché ne ho due nel bar, quattro lì... Se ti mangio si. me lo puoi dare sempre, io devo sempre entrare, non mi mangi, fa il tiro, ma allora me lo puoi dare dopo se fai 5 e colpisci, perché ad esempio qui devo muovere, non è proprio secondo me è un sbaglio tecnico può essere non lo so no no no, stanno giocando, una donna, ti picchiano, come un falco, come un falco, non me ne so sono pronti lì, ma vedi che c'è tutto a cammino, i coperti, ci picchiano poi, immagini, facciamo la battaglia del punto, eh no, 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 no C'era fatta? Adesso iniziamo. Ho anche un po' di cialzi. Tante monee. Questa è una partita lunga. La lampeggia. Il rosso. La lampeggia il rosso. La lampeggia il rosso. Ventilati. Vuol dire che fa il rosso. Il rosso che fa il rosso. Il rosso. Il rosso. Il rosso. Grazie. 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 Guardi, guarda il tuo avversario. È arrivato il tuo avversario. Sì, è già finito. 11 a 0 quasi. È arrivato, mi ha appiccinato e... Ah, ma... Ieri possiamo andare a 0. Anch'io ieri 9 a 0. Oggi sto lottando un po' di più. È più gentile lui. È più... Secondate. Grazie. 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 Ok, no, è così, in questi casi c'è un po' con la fine, eh, un po' con la fine, un po' con la fine, un po' con la fine,